Ah che bello, giochiamo a Minecraft per telefono Cos'è sto schifo? Oggi andremo a provare le app di Minecraft più brutte Quelle che proprio appena vedrai tirare Ma esiste? E quindi ragazzi, se non volete che questi giochi prendano il possesso del vostro telefono Spaccate il tasto e iscriviti E lasciate un sacco di pollice in su Iniziamo Ma buongiorno App Store, quanto sei bello? Ma che è? È bellissimo Andiamo a cercare Questo è Minecraft, Minecraft l'originale Ma ce ne sono tantissimi Tipo Multicraft, Blockcraft Ma noi dobbiamo cercare qualcosa di veramente schifoso Tipo questo gioco che si chiama Grandcraft Simulation Crea il tuo mondo di pixel Costruire da sblocchi Da blocchi, scusa Sviluppa la tua creatività Minecraft va? Vediamo Wow, Grandcraft Exploration Nuovo gioco Minecraft Si sta scaricando Ma che cosa è questo? Un petardo Ma che cos'è sta cosa? Dovrebbe essere una torcia Pagina 1 Scegli il blocco Scusa Ragazzi Ma mi costruisci Ma mi costruisci Ma è so proprio Oddio Oh, che bello questo mondo di Minecraft È così realistico Cioè non c'è bisogno neanche di saltare Il fuoco E che cosa c'entra il fuoco? Vediamo Ah, così tipo Cancello Ok E che cosa serve questa torcia? Usa torcia Questi sono tutti i nostri materiali Sono due pagine Abbiamo per esempio Il carbone Usa Che è molto Schifoso Ah Scusa Ok Che questo Non è come Minecraft reale Questo È Minecraft Celestiale Quindi noi possiamo volare No? No Ok, scusate No, pensavo potessimo volare Ma a quanto pare se saltiamo Rimbalziamo Quindi Che bel gioco È l'acqua Com'è realistica Possiamo notare nell'acqua L'acqua è un blocco Come L'acqua è un blocco? L'acqua è un blocco L'acqua è un blocco Aiuto Che sono creato qui Ragazzi Aiuto Ma questo mi sembra bruttissimo Che è successo? Mi sto affogando Per caso no Sto creando un buco nero Salta Salta Ok Ok Ci siamo Ma sono curioso di una cosa Ma ci sono i mostri In questo gioco Cioè Abbiamo tipo I creeper I maiali Abbiamo un salto Incredibile Abbiamo creeper Maiali Qua c'è un villaggio Qua c'è un villaggio villager Vediamo se c'è qualcosa Dentro il villaggio villager Niente C'è vuoto Ma Ma allora Non mi dire che io sono l'unico Su questa terra Non è possibile No Ci devono essere i mostri Cioè Almeno un mostro Ci deve essere No È una landa desolata Non c'è niente di niente Nemmeno i villager No no Brutto Non è bello Non è bello Ma siamo al prossimo Mine runner 3D Ma che gioco è Non è tipo minecraft È tipo Samwayster Oh mamma mio Ma che è un mammut Oh no Devo giocarlo C'è un mammut Minecraft runner 3D Vuoi consentire No Grazie Questo me non mi piace Molto Minimal Non c'è niente No Lo zuffi di minecraft Mi segue Aiuto L'ho però fatto benissimo Oh Ma chi è quella cosa Aiuto Aiuto Attenti 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 Che cosa sta facendo Aiuto Meglio di tempo run Samwayster Un creeper Ok ok Ce la posso fare Devo essere bravo Devo essere bravo Devo essere bravo Bravissimo Salta così Ti voglio Oh Perché caldano pure gli alberi Non dovrebbero cadere gli alberi Mammao Aiuto Ma perché Abbiamo visto mamma Abbiamo visto creeper Che cosa c'è di altro Di minecraft Il bucket Cosa mi serve Il bucket Non lo so Se mi ha dato più velocità Però io sto guardando avanti Sto guardando ancora avanti Ok Posso andare qui Grandissimo Ho preso Ho preso Lo gioco Mammut Perfetto 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 Wow Troppo bravi Ogni volta che dico Troppo bravi Muoio Meglio di non parlare Un altro bucket Non so che cosa mi serve il bucket Oh Un pollo Ho preso un pollo Ho preso una pala Cosa sto facendo Ok Ispirata a minecraft Ma non c'è niente di minecraft Lava Quella era lava Ho toccato la lava E non la dovevo toccare Quella è lava E non la dovevo toccare Ce la sto facendo Attento Troppo forte Troppo forte Come stavo dicendo Questo gioco è bello Prossimo Ma io voglio sapere Se c'è un mondo di minecraft Dove ci sono Dei mostri Perché voglio vedere Quanto brutti Li hanno fatti Questi mostri Ho trovato questo gioco Che si chiama Savanna Craft Il nostro eroe Erobrine Come Erobrine Cioè io sono Erobrine E' uno scavatore esperto Che è scappato dal viaggio Dal suo fratello Steve Ed è arrivato In questa natura selvaggia E questo è il leone Vediamolo Subito ora Vediamo se i leoni Mi attaccano Ho sentito dei cavalli No gli animali Gli animali Eccoli Che belli che sono Guardate Quelle delle elefante Aiuto Non mi attacchiamo Non mi attacchiamo Vediamo se ci sono i leoni Perché ci saranno No Mucche Hello Quanto è brutta Sta mucca E' orribile No no Non ho mai visto La mucca così brutta Nemmeno Minecraft Dai Ed entriamoci Nel deserto Perché Nel deserto Ecco il leone Allora Io non so se mi attacca il leone Ma credo di sì Quindi avviciniamoci molto piano Tipo Perglis Piano 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 No Aiuto No No Acuni Prendi l'acuni Ho killato un leone Come ho fatto Ho mani nude Sì Io sono Bear Grylls Uh la pecula di Minecraft Vediamo com'è Devo mangiare Devo mangiare Non so come fare Ok C'ho la carne Questo è il menu Io posso mettermi la carne qui Eat La crafting table Non ho nulla nell'inventario Prima devo avere qualcosa nell'inventario Ce l'ho Ce l'ho Ho il legno Fai il legno Tutto Craftiamo Craftiamo Vai Crafta Ho craftato Il mio primo piccone Che ora posso Utilizzare Se Andiamo sotto terra Dai Vediamo cosa c'è Alla fine di questo mondo Pronti ragazzi Via Fine in fondo Facciamo che cambiamo Ultimo gioco L'ultimo gioco Che volevo provare È questo Peak Crafter Che sarebbe Non lo so Un gioco bello Vedo un piccolo indiamante Vedo tanti piccoli Vedo una cesta Quindi dobbiamo Andare verso sotto Scavare Vediamo cosa Cosa troviamo Che cos'è Non lo so Io spero Che è sto coso Proviamo Peak Crafter Benvenuti Benvenuti Tocca lo schermo Ah Cioè Questo Bene È una cesta Dei blocchi Che hai collezionato Qui Wow Ok Inizio a scontentare Tutti dispositivi No Vabbè Quindi Posso farlo Così Apri i bauli Trova blocchi Abilità Picconi E altro Nei bauli Tocca per iniziare Ok Apriamo i baule Argilla Ma l'ho fatto Troppo bene Zucca Legno E trivella Oh no Un boss potente Sta invadendo Chi Prossimo boss E chi è Chi è il boss potente Fammi vedere Evoca Un diglet Provo a trovarmi Sì Che colore era Qua 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 Devo colpirlo Devo colpirlo Devo colpirli tutti Che battaglia Epica Contro un boss Diglett Con gli occhiali da sole Oh Non è bello Eh Becca di questi muscoli Cassa speciale Legno Anima No Io ho rubato pure l'anima Non ci credo Povero Diglett Io ho rubato l'anima Povera Talpa Perfetto Ok ragazzi Io direi che questo video Sui giochi Brutti O belli Di Minecraft Ho fatto un posto Anche con quelle qua Spero tantissimo Che vi sia piaciuto E nulla Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto C'è un sacco di pollice In su Qua la vostra Insiste è tutto E noi ci vediamo A un prossimo video E Ciao 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 Grazie a tutti.